Dobbiamo preparare per la valigia o per portare il vassoio? Questo è un po' lo slogan e il dilemma. Cioè pronti ad avere le competenze che poi andranno a spendere altrove oppure pronti a fare i camerieri. Io non la penso così. Sono convinto che soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia ci sia una cultura, una genialità, un'effervescenza che porterà dei suoi frutti. I suoi frutti se, a patto che, logicamente sono delle condizioni, la politica investa e crea delle attenzioni nei confronti dei lavoratori, dei giovani, dell'ingresso del lavoro, delle nuove professioni e sicuramente delle start-up. Perché una delle cose che non si dice quando si pensa al lavoro dei giovani è quello di spronarli all'autoimprenditorialità.